Irama è ormai diventato inarrestabile, sono state, infatti, annunciate delle nuove date del Giovani Per Sempre Tour, che si svolgeranno durante l'estate Il cantante, dopo aver già annunciato il tour estivo, data l'incredibile richiesta da parte dei fan, ha aggiunto tre nuove date La prima si terrà giovedì 11 luglio 2019 alla Roma Summerfest, presso la Cave Auditorium a Parco della Musica, il secondo a Taormina, me, al Teatro Antico, venerdì 2 agosto 2019 e il terzo a San Severino Marche, Mec in Piazza del Popolo, previsto per mercoledì 7 agosto 2019 Le sorprese non finiscono qua, il Il cantante ha già iniziato la prima parte del tour a fine febbraio, il Giovani Per Sempre Tour conta ben 16 appuntamenti, con alcuni concerti già sold out, tra cui quello che si terrà a Milano il 5 aprile La data di Padova, prevista per il 16 marzo al Teatro Geox, è stata posticipata il 29 giugno e si terrà all'Arena Live Ecco le date del Giovani Per Sempre Tour di Rama Sabato 1 giugno 2019, Bassano del Grappa, vi, Chiocciola Piazza Libertà Sabato 22 giugno 2019, Grugliesco, tu, Chiocciola Gruviaj, i 105 Music Festival 2019 C, o Shopville Gru Sabato 29 giugno 2019, Padova Chiocciola Arena Live Sabato 6 luglio 2019, Genova Chiocciola Arena del Mare C, o Porto Antico Giovedì 11 luglio 2019, Roma Chiocciola Roma Summerfest C, o Cave Auditorium Parco della Musica Nuova Data venerdì 19 luglio 2019, Lignano Sabbiadoro, UD Chiocciola Arena Alpe Adria Venerdì 26 luglio 2019, Pescara Chiocciola Teatro d'Annunzio Sabato 27 luglio 2019, Nardò, Le, Chiocciola Stadio Giovanni Paolo II Venerdì 2 agosto 2019, Taormina, Me, Chiocciola Teatro Antico Nuova data Mercoledì 7 agosto 2019, San Severino Marche, Mec, Chiocciola Piazza del Popolo Nuova data domenica 11 agosto 2019, Soverato, CZ, Chiocciola Summer Arena